Angelo incinocchiato, singhiozzava, inerme e rassegnato, mi guardava, emozionato, non diceva niente. Grandi ali bianchi sui lati del corpo gli pendevano come fossero incapaci di prendere il volo. Io con lui, solitari, in quel grande cimitero di anime, messaggeri divini, umani del mondo. Presto verrà un nuovo giorno a Zardai. Ognuno di noi farà ancora ciò che può. Silenzi soffiati di valore simbolico dall'alto, scesero come divine mosse. Ci fu tutto chiaro quando un fragore seguì e accecante bagliore ci scosse.